Ciao belghi! Oggi vediamo come installare Arch Linux quello che sto usando in realtà è Reborn Oest però, vabbè, fate finta che sia Arch Linux è quasi la stessa cosa all'interno, dall'interno su questo qui che è ovviamente il mio Raspberry Pi 4 non sto facendo finta, ci sono pure le porte però è da un secolo che non apro il case vediamo se si è impolverato no, sembra nuovo, guardate, è perfetto quindi vediamo come installare Arch Linux su Raspberry Pi 4 la versione a 32 bit dopo vediamo meglio perché non quella a 64 ovviamente per installare Arch Linux sul Raspberry Pi non si usa lo stesso modo che si usa con le altre distribuzioni quindi non va scaricata la ISO e non va poi flashata con Balena Hatcher o Raspberry Pi Major dimenticatevi quel metodo perché ovviamente se fosse così questo video non avrebbe alcun senso in modo un po' particolare dobbiamo creare noi le partizioni sulla microSD che intendiamo utilizzare dobbiamo poi scrivere il sistema operativo con un modo particolare che adesso vediamo e per fare questo va usato per forza un computer Linux ovviamente può essere anche una macchina virtuale quindi vi create una macchinetta virtuale semplicissima e poi montate la microSD all'interno della macchina virtuale ho anche fatto un video su come fare però è importante che venga usato un sistema operativo Linux una distribuzione Linux non ha importanza quale quindi potete anche usare Linux Mint ad esempio va benissimo però è importante che sia per l'appunto una distribuzione Linux quindi detto questo cosa ci serve? ovviamente la nostra microSD che intendiamo utilizzare e potrebbe anche servirvi un adattatore da microSD a SD normale oppure come nel mio caso da microSD a USB vi lascio in descrizione questo adattatore costa 10 euro neanche se vi serve è veramente molto molto comodo quindi cosa facciamo? ovviamente come prima cosa inseriamo la nostra microSD all'interno dell'adattatore e poi sul computer ora io ho la porta qui ok ovviamente ora dobbiamo procedere al computer quindi vediamo ovviamente non vi sto nemmeno a dire che perderete tutti i dati contenuti all'interno della microSD quindi se avete dati prima salvateli non ha importanza come è formattata ora nel mio caso è formattata in FAT32 ma non ha importanza perché tanto dobbiamo eliminare tutte le partizioni per rifarle quindi apriamo un terminale ora io l'ho ben zoomato e la prima cosa da fare è dare il comando lsblk per capire qual è il punto di mount della nostra microSD collegata al computer nel mio caso è questa qui devsda la riconosco perché è da 16 giga qui c'è scritto 14 5 ma va benissimo comunque questa e poi perché questo qui nvmi 0 non può che essere ovviamente il disco nvmi del computer quindi successivamente cosa faccio do il comando sudo importante farlo da super user quindi sudo cfdisk slash dev slash sda che ovviamente vi ricorderete il nome del device che abbiamo visto prima nel vostro caso può essere sdb sdc o qualsiasi altra cosa mi raccomando ovviamente attenzione a non farlo sul disco del computer nel caso abbia un nome simile a non farlo magari su qualche harddisk esterno assicuratevi 20.000 volte meglio controllare un minuto in più che è formattare tutto e perdere dati e non sapere più cosa fare poi e quindi state attenti nel mio caso è questa qui inserisco la password ok magari qui adesso è meglio diminuire un po' lo zoom altrimenti non si vede bene ok quindi io praticamente ho questa partizione ok è una partizione unica e la vado ad eliminare perché non mi serve ah ovviamente non vi sto a dire che le partizioni potete farle con il tool che volete anche con partida fdisk qualsiasi altra cosa io mi trovo bene con cfdisk ho sempre usato questo ma ovviamente fate come preferite una volta eliminata la partizione ne andiamo a creare una nuova da 200 megabyte quindi qui scriviamo 200 m maiuscola primaria quindi l'abbiamo creata ora ci spostiamo qui con le freccette su tipo e come tipo gli diamo questo qui quindi lettera c w95 fat32 lba ok successivamente creiamo l'altra partizione che deve prendere tutto lo spazio rimanente quindi nuova qui lasciamo così com'è primaria perfetto abbiamo finito il partizionamento utilizzando cfdisk ora qui ci spostiamo con le freccette su scrivi diamo yes perfetto ora possiamo uscire tranquillamente dal tool abbiamo creato le due partizioni che ora ovviamente dobbiamo formattare ma per il momento le abbiamo create infatti come vedete con lsblk adesso qui le vedo entrambe ora cosa faccio essendo che devo formattarle formato la prima partizione quindi questa qui con un file system vfat quindi per l'appunto fat32 che come sappiamo è il solito file system delle partizioni di boot quindi makefs punto anzi anteponiamo sudo makefs punto vfat slash dev slash sda 1 anche qui ovviamente attenzione a non specificare partizioni del disco rigido dell'hard disk del computer o ssd che sia o hard disk esterni eccetera eccetera perché in questo modo lo formattate quindi attenzione mi raccomando specificare non mi stancherò mai di dirlo la partizione corretta ok abbiamo formattato questa partizione e ora non ci resta che formattare la seconda quindi sudo makefs punto ext4 la formattiamo in ext4 di nuovo slash dev slash sda questa volta due ancora una volta controllate mi raccomando quindi attendiamo qui mi dice che ho già montato questa partizione che contiene già un file system ext4 ma mi ovviamente non interessa e la vado a formattare perché sono sicuro che non è la partizione questa qui e quindi non ho paura di fare invio e lasciare che la formatti perfetto una volta finito questo dobbiamo creare le directory che poi utilizzeremo per montare le due partizioni appena create e poi per andare a scrivere il sistema operativo io però non lo farò qui ma ho una directory apposita all'interno di so raspberry pi arch e queste due cartelle da creare sono le creiamo con il comando makedir boot quindi fate invio io non lo faccio perché l'ho già fatto comunque qui fate invio e vi creerà la la directory boot e poi la directory root ancora una volta fate invio e in questo modo creerà per l'appunto la directory una volta fatto questo dobbiamo scaricare la tarbol che ci servirà poi per installare effettivamente il sistema come facciamo con il comando vget quindi wget http due punti slash slash os punto arch linux arm punto org slash os slash a maiuscola arch l maiuscola linux in maiuscolo arm arm per l'appunto meno rp meno arm v7 vi ricordo che questa è la versione a 32 bit e adesso vi spiego perché non scarichiamo quella 34 trattino latest punto tar punto gz ancora una volta fatto invio io non lo faccio perché anche questa è una cosa che ho già fatto e lui inizierà il download quad della tarball che pesa all'incirca 620 630 megabyte giù di lì ma veniamo adunque perché pur potendolo fare non scarichiamo la versione a 64 bit ovviamente sarebbe possibilissimo farlo ma io personalmente ho riscontrato un problema perché come dice lo stesso team di arch linux arm non è ancora totalmente stabile nel mio caso il problema è che voglio usare il mio raspberry pi in modalità headless quindi praticamente da remoto quando noi installiamo arch linux sul nostro raspberry pi il servizio ssh quindi il server ssh per l'appunto è abilitato di default essendo abilitato di default quindi io posso accedere al mio raspberry pi da remoto questo con la versione 32 bit io però ho provato anche quella 64 bit lunedì questo lunedì 31 gennaio per l'appunto quindi pochi giorni fa e non mi è stato possibile collegarmi utilizzando ssh mi dava connection refused che vuol dire che il server ha rifiutato la connessione il sistema in realtà bootava quindi non è un problema di boot perché lo vedevo anche dalla pagina di gestione del modem ma semplicemente non ci si può collegare quindi bisognerebbe capire se magari è solo un problema per l'appunto di servizio ssh perché può anche essere che semplicemente non sia attivato per cui magari basta collegarlo ad un monitor e collegarci una tastiera il mouse è inutile io non lo posso fare perché so che voi direte ma tu hai il monitor hai la tastiera perché non lo fai perché sono delle illusioni ottiche e non ci sono veramente no a parte gli scherzi ovviamente non lo faccio perché semplicemente la tastiera è collegata al retro del case per cui dovrei scollegare da lì poi anche qui dovrei scollegare il cavo ma non vedendoci dovrei girare il monitor sinceramente non ho voglia di farlo quindi il problema è proprio il non avere voglia volendo potrei farlo ma non ho voglia comunque al di là di questo adesso vi faccio vedere come scaricare anche la versione a 64 bit per cui se volete potete provare a collegarci un monitor e una tastiera e vedere se magari è solo un problema per l'appunto di servizio non attivato per scaricare la versione a 64 bit quindi elimino qui il comando è pressoché lo stesso quindi vget con la differenza che qui scriviamo che non significa ovviamente archlinux in questo caso significa architecture architettura 64-latest.tar.gz pesa circa come la versione a 32 bit per cui non è un problema fate invio per l'appunto e la scaricate e poi la modalità di installazione è la stessa che vediamo adesso vi ricorderete prima che abbiamo creato le due directory che vediamo qui boot e root cosa dobbiamo fare dobbiamo montare le due partizioni create prima all'interno di queste due directory nello specifico sudo mount slash dev slash sda1 quindi la partizione 1 che è quella di boot all'interno di boot per l'appunto ovviamente chiede la password di amministratore che ho sbagliato a scrivere credo infatti ok e poi la stessa cosa con la partizione 2 quindi all'interno di root questa volta sda2 ora se guardo all'interno di root vedo la directory lost più found non so se sia proprio una directory comunque è tipico delle partizioni xt4 e vediamo anche qui che sono diventate così prima erano grigette quasi trasparenti se vogliamo ora sono così significa che sono montate chi conosce xfce sicuramente avrà notato questa cosa ora in teoria dovremmo usare un comando per spacchettare diciamo così questa questa tarbol all'interno della directory root e questo comando va usato non con sudo ma direttamente con l'account root quindi diamo sudo su e semplicemente entriamo per l'appunto in root ora qui mi da degli errori non badate sono degli esperimenti che ho fatto vabbè comunque non ha importanza questo comando quale sarebbe bs di tar meno xpf e poi il nome della tarbolio me lo copio qui faccio direttamente copia e incolla e poi gli specifichiamo la directory che in questo caso ovviamente è root potete provare a dare questo comando ma l'ultima volta che io ho provato personalmente non ha funzionato per cui come ho fatto a risolvere apro semplicemente il gestore dei file usando per l'appunto questo terminale impostato da root nel mio caso essendo che uso xfce il gestore dei file è tuner quindi lo apro così perfetto come vedete mi avvisa anche che sto usando l'account amministratore quindi apro la tarbol in questo caso si apre con ingrampa gestore archivi e cosa faccio? estraggo semplicemente quindi clicco estrai qui estraggo la tarbol all'interno di root questo me lo lascia fare quindi attendo che finisca e come vedete molto semplicemente anche se quel comando probabilmente non avrebbe funzionato ma semplicemente l'ho spacchettata utilizzando l'interfaccia grafica però non è finita qui perché una volta fatto questo dobbiamo syncare diciamo così in gergo il tutto utilizzando il comando sync ed è questa qui la parte che di solito non richiede proprio due minuti e nemmeno tre in realtà richiede qualcosina di più attendiamo per l'appunto che finisca ora non ci resta che spostare tutti i file di boot all'interno della partizione di boot per fare questo diamo il comando mv root slash boot slash asterisco che significa tutto quello che c'è all'interno di boot per l'appunto quindi facciamo invio ha finito molto semplicemente e ora non ci resta che smontare le due partizioni quindi amount boot e root ok come vedete stanno diventando grigette trasparenti ditelo come volete perfetto ha finito ora possiamo egettare con il comando ecco egettare magari non è proprio italiano comunque diciamo espellere ecco il device in questo modo se specifichiamo la partizione 1 essendo lo stesso device quando viene espulsa una partizione automaticamente viene espulso tutto il disco quindi faccio invio come vedete sparisce da qui e ora ovviamente non ci resta che inserire la micro sd all'interno del nostro raspberry pi collegare il cavo ethernet che ovviamente deve essere poi collegato al router perché in questa sede il wifi non è ancora attivato possiamo poi attivarlo in seguito se vogliamo però al momento non è attivato quindi se vogliamo entrare in ssh dobbiamo essere collegati tramite il cavo ah spoiler il cavo che avete appena visto non si collega a niente perché solo per fare il video in realtà non l'ho collegato infatti il raspberry è ancora qui realistico poi infine gli diamo la currente collegando per l'appunto il cavetto classico quello type c e anche in questo caso la currente non c'è perché ovviamente non l'ho collegato veramente realistico è tipo la realtà aumentata di poveri immagino comunque sia una volta collegato veramente infatti ora vedete che non c'è più torniamo al computerino usciamo dalla shell root e ci colleghiamo in ssh nel mio caso quindi ssh l'utente alarm che ovviamente non significa allarme credo sia abbastanza ovvio ma è un acronimo sta per arch linux arm chiocciola l'ip quindi un semplicissimo collegamento ssh nel mio caso 192.168.1.11 non serve specificare porte perché è quella normalissima la 22 di default mi dice di confermare se sono sicuro di volermi collegare ovviamente sì la password è nuovamente alarm quindi di nuovo arch linux arm ed eccomi qui tranquillamente all'interno di arch linux arm ovviamente l'installazione non è finita manca un piccolo passaggio da fare qui all'interno entriamo in shell root quindi con il comando su password ovviamente root qui diamo innanzitutto il comando pacman meno key tutto attaccato meno meno init quindi inizializziamo il kring di pacman e poi infine pacman meno key meno meno populate quindi aggiungiamo le chiavi arch linux arm perfetto abbiamo finito anche questa configurazione e ora ovviamente possiamo aggiornare il sistema volendo quindi posso fare così molto semplicemente ok ci sono un po' di pacchetti da aggiornare come vedete comunque possiamo volendo installare pacchetti quindi poi ce l'abbiamo ovviamente sudo non solo non è abilitato ma non è nemmeno installato ma ormai che ci siamo vi faccio vedere come fare installiamo molto semplicemente il pacchetto sudo quindi pacman meno s sudo e vim successivamente scriviamo in maiuscolo editor uguale vim di sudo qui scendiamo fino a trovare la riga vediamo vediamo questa qui quindi un commenta cioè togli il commento in poche parole togli questo questo cancelletto per permettere ai membri del gruppo will in questo caso l'utente alarm è all'interno del gruppo will di eseguire ogni comando quindi premiamo la lettera i sulla tastiera togliamo quel cancelletto ctrl c due punti wq quindi salva e quitta chiudi perfetto ora possiamo uscire e possiamo usare tranquillamente sudo password alarm come sempre e funziona quindi 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 ragazzuoli abbiamo visto oggi come installare arch linux su raspberry pi usciranno tanti altri video anche per quanto riguarda la programmazione utilizzando per l'appunto arch linux su raspberry pi spero comunque che questo video vi sia stato utile vi sia anche piaciuto se così fosse ovviamente lasciate un commentino scrivetemi magari se non avete capito qualche passaggio lasciate anche un mi piaccino non dimenticatevi ovviamente di iscrivervi se già non lo siete e noi ci troviamo come sempre in un prossimo video ciao belli